In questo grande centro commerciale sono maggiormente gli uomini a caccia dell'affare, dell'anno, della stagione, soprattutto per quanto riguarda l'avvigliamento sportivo. A voi! Grazie a Silvia Vada, noi andiamo a occuparci di musica. Albano e Romina, i protagonisti di un grande concetto per la festa del compleanno di vostra piacere. Musica lucidantissima, star della musica italiana. Potete bella? Cosa? Ehm... Tocca. Tocca e dappan. Ossi è in sanpe e acute. Sì. Ossi è in sanpe e in sanpe e in sanpe e in sanpe e in sanpe. Ossi è in sanpe e in sanpe e in sanpe e in sanpe e in sanpe. Maria. Allora? Bello, amore mio. Bello, amore mio, tu. Sì, cosa? Con quei dentini curnuto. Con quei bei dentini, fammi vedere qua. Sì, chiudi. Ehi, io, 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 io. Ah! Poi un po' di pane. Che buono! è buono non gli vanno pari devo salire il corso è buono non sarà facile, però vedo che partendo nono potrebbe avere più difficoltà e quindi passiamo a scoprire ci vuole mezz'ora che prepara assolutamente è buon? io sei buon? io sei buon? tu grifosi là? po' dà vado a respirare ti sentivo gridare? tu sei come l'olta? che è successo? ti sentivo gridare tu sai che c'è il cardenno tuo? te lo messo il giorno e mi stai anche cercando che c'è un'olta? che fanno? che fanno? che fanno? ma stai sempre a guardare madonna mia guarda come se è grande come se è grande che fanno i sangli e mi stai messi 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 i sangli e C'est magnifiche. Sonny! Che stai a guardare? L'orologio di nonno? Hai visto l'orologio mio? Sono su di pittura.